salve amici e benvenuti sul canale oggi provo a fare una piccola guida iniziale per questo valheim dato che su steam è letteralmente impazzito ci sono sostanzialmente più di 130 mila persone che ci stanno giocando avevo fatto un piccolo video di prime impressioni e oggi vorrei fare un video per i primissimi momenti di gioco per l'occasione creiamo un personaggio così dall'inizio iniziamo assolutamente da zero e vorrei darvi qualche tip and tricks dall'inizio e spiegarvi qualche piccola meccanica iniziale su come funziona questo gioco che è un survival di fatto scopo finale battere i mega boss di odino quindi effettivamente è uno dei pochi survival dove c'è uno scopo alla minecraft se vogliamo anche in minecraft c'è uno scopo finale tutto sommato però è un sandbox di fatto potete fare quello che volete potete stare anche tutto il tempo a costruire incredibili edifici ma c'è uno scopo si comincia così con il mega corvo che vi trasporta vi butta in questa isola creata in modo in maniera totalmente procedurale quindi tutte le isole sono tutti i mondi sono diversi in questi mondi ci sono vari biomi che chiaramente sono casuali creati e svariatissime isole infatti anche il navigare sarà particolarmente importante devo dire che ancora è molto poco ottimizzato infatti io faccio 60 70 80 fps 30 70 in un gioco con una grafica che non dovrebbe essere così ma appunto abbiamo questo corvo che man mano ci fa da tutorial e ci spiega un po tutte le cose nuove che accadono qua è fondamentale perché è qui che summonerete di fatto i boss ecco siamo attaccati immediatamente è molto interessante questo è ok bene neanche il tempo ecco lui ci dice che il nostro primo obiettivo è uccidere il primo boss che in queste praterie in questa primissima zona la nostra prima preda infatti noi sapremo la mappa intanto vede vedete che la mappa è gigantesca rispetto a come siamo messi noi premendo qua ci dirà dov'è la nostra prima preda che in realtà è il primo altare dove poter evocare questa preda questa preda di fatto il boss ci sono come vedete 1 2 3 4 5 boss che chiaramente sono i vari tier di progressione del gioco e ci verranno un bel po di ore perché ogni volta che voi dovrete cambiare diciamo zona e quindi avrete nuovi minerali nuovi mostri e tutto quanto insomma sarà molto lento e faticoso comunque all'inizio c'è una bella alce che noi dobbiamo evocare in questo ectir il nome del dio in questo altare e serviranno due trofei di cervo ecco prima meccanica ogni volta che voi raccogliete qualcosa di nuovo vi spuntano i recipe le ricette all'inizio chiaramente potete fare ben poco e in generale potete fare ben poco senza un tavolo da lavoro infatti qui come vedete per craftare qualcosa senza niente potete fare solo torcia e randello ma con un poco di legna all'inizio che comincerete a raccogliere potrete costruire tipo la prima ascia il primo martello comunque lui comunque vi da questi suggerimenti e come vedete vi aiuta costantemente c'è l'italiano però è in versione ancora traduzione comunitaria però qualcosa in italiano c'è man mano che il gioco si svilupperà probabilmente aumenteranno i testi in italiano io per ora l'ho messo così anche se è un po misto comunque quando c'è l'italiano ve lo fa vedere e giustamente lui vi suggerisce di creare una mazza è un è un martello ancora non ho neanche raccolto la una roccia quindi non so neanche come si faccia un ascia cioè il mio personaggio non lo sa ancora ancora accogliamo le prime rocce vedrete che appunto spuntano nuove ricette e adesso noi abbiamo sia il martello che il randello che lascia e più o meno sarà quello che potrete recraftare senza un tavolo da lavoro avrete visto che sono cresciute delle statistiche infatti qua noi abbiamo beh qui abbiamo tutto il tutorial che andrete a imparare e potete comunque riconsultarlo qui abbiamo le nostre abilità infatti quale abilità in questo gioco salgono con l'uso in questo caso ne abbiamo solo tre ma in realtà sono tante ma ovviamente anche qua man mano che farete cose vi scoprirà l'abilità per esempio continuare a correre vi aumenta la resistenza quindi consumerete sempre meno stamina per correre usare il bloc vi aumenterà l'assorbimento del bloc e dei perri usare clubs quindi mazze vi alzerà il danno delle mazze a prescindere dalla qualità dell'oggetto comunque se avete un'abilità alta fate ancora più danno e così via quindi primo obiettivo è sicuramente quello di farsi un'ascia e una è un martello per creare il primo tavolo da lavoro e in generale la prima capannina la prima casetta che vi servirà anche per creare il primo letto che sarà il primo spaw point queste sono cose tipiche di qualsiasi gioco survival ma in questo gioco sono già fatte molto bene per essere un early access potete anche menare coi pugni e infatti c'è anche un'abilità unarmed che ancora non avevo scoperto come vedete adesso noi abbiamo anche unarmed quindi picchiare senza armi tanto ci vuole allora ascia di pietra 5 4 ce l'ho posso crearmela sul momento facciamoci anche il martello che hanno bisogno di tre legna e due pietra a primo grande consiglio occhio vedete ora abbiamo imparato anche wood cutting e questo pure si alza a mano che voi alzate l'abilità di tagliare la legna dovete stare attenti agli alberi perché quando tagliate gli alberi il tronco che si staccherà a breve vi può ammazzare infatti come vedete escono i danni quindi se voi venite travolti da questo mega tronco potete rischiare anche di uccidere di essere uccisi in un colpo solo vedete che fa danni man mano che cammina e va giù c'è la fisica abbastanza fatta bene sui tronchi e poi avanti nel gioco quando vedrete i troll smazzarvi con questi tronchi perché trovo sono veramente grandi vedrete che distruggeranno intere foreste o anche edifici insomma la fisica è fatta abbastanza bene in questo gioco davvero molto carino qui abbiamo questo rompicoglioni che possiamo menarlo e come vedete in basso abbiamo per lash attacco e blocco infatti possiamo stare in blocco e come vedete noi assorbiamo tutti i danni però c'è un però questo funziona solo se il nostro valore di blocco è sufficiente rispetto ai danni del mostro che ci picchia infatti qua se io vi faccio vedere un secondo potete leggere c'è blocca potere e perry force quindi noi abbiamo 10 di di blocco il blocco è semplicemente se noi stiamo così in guardia il perry invece fa la stessa cosa però al momento giusto quando ci colpisce il nemico quindi noi abbiamo 20 10 di perry di blocco e 20 di perry questo vuol dire che se il mostro è troppo forte e ci fa più di 10 15 20 danni anche se noi facciamo blocco perry non funzionerà quindi tutto sarà relativo a questa potenza di perry e di blocco chiaramente gli scudi hanno dei valori molto più alti di perry e anche di blocco e quindi usare scudi e una mano quindi armi una mano con lo scudo chiaramente ci facilita il perry e il blocco però in generale è così che funziona e già che ci siamo vi posso dire che ci sono vari bonus tipo il bonus parata infatti quando voi fate un perry attivo stordite l'avversario e gli fate poi il doppio del danno di solito e attacco vile tradotto in italiano vuol dire che è il backstab sostanzialmente quindi avete un bonus fino a per 3 ovviamente i danni sono un po randomici perché anche qui vedete che per esempio l'ascia in questo caso fa taglio 15 di damage 4 8 quindi fate tra i 4 gli 8 danni in quel caso se colpite da dietro potete fare fino al triplo del danno questo vale sia per gli avversari che per voi infatti anche se i mostri vi picchiano da dietro vi possono fare fino al triplo del danno quindi occhio a posizionarvi bene chiaramente giocare con amici facilita molto perché magari uno tanka il mostro e voi lo melate da dietro e gli fate il doppio del danno vedete questi droppano questo necktail che si può cucinare allora già così un secondino vedete abbiamo molta poca vita all'inizio chiaramente e a breve vi spiego come funziona la vita perché il cibo e la vita sono strettamente legati in questo gioco vedete correndo si è alzato running allora facciamo un altro po' di legna così costruiamo il primo banco da lavoro e vi faccio vedere un paio di cose ecco vi faccio vedere un po' il parry come funziona se mi attacca non mi vuole attaccare vedi così è stato stordito quando sentite il suono stordito e guardate quanto danno gli ho fatto da stordito tantissimo questo non era un parry ma vabbè insomma ci siamo capiti per il crafting funziona così dovete avere un martello prima di tutto quindi craftare un martello ecco vedete quante cose vi spuntano e qui già col martello vi danno tutti i raise hype della costruzione e il corvo vi dice di fare una workbench e bla 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 perché funziona così indossate il martello premete il tasto destro e avete tutte le cose che potete costruire fate una workbench e ovviamente qua mi sta sbloccando tutti i raise hype della workbench che sono praticamente quasi tutte le cose per costruire una casa e ancora qui il corvo ci dà altri consigli cioè il corvo è molto utile e vi seguirà per tutta l'avventura chiaramente vi spiegherà tutte le cose nuove man mano che le andate a fare ora in molti giochi survival basta una workbench per costruire cose ma qui no la workbench ha bisogno di un tetto se no non la potete usare quindi inoltre la workbench non so se vedete qui crea un'area perché non ha il martello questa area vedete che si è formata tratteggiata circolare si vede poco in realtà vabbè lasciamo perdere l'area forse la vedete là dove c'è quel cervo comunque questa area è l'area dove potete costruire di fatto cosa vuol dire che una volta che avete la workbench dovete coprirla sostanzialmente perché coprendo la workbench la potremmo usare sto cercando un po' di legna perché ho troppa poca legna per farvi la dimostrazione comunque nel frattempo ho trovato dei lamponi il primo cibo uno dei primi cibi che probabilmente troverete e così potrò spiegarvi in questo momento come funziona il cibo come vedete qui il lampone ha 10 di salute 20 di resistenza e dura 600 secondi vi cura uno al secondo una tic se vi mangiate il lampone come vedete in basso a sinistra si è riempito uno slot infatti potete avere fino a tre cibi contemporaneamente come effetti questi staccano uno sull'altro e potete quindi sommare la vita massima e sommare la stamina massima quindi più cibi avete di qualità maggiore più il vostro vita massima si alza anche la stamina si alza e anche il regen per secondo si alza quindi il cibo serve a questo sostanzialmente ad avere più vita più regen vita e più stamina e potete appunto mischiare al massimo tre cibi ma qui penso che ve lo spiegherà il corvo mangiare cibo aumenta la quantità totale di salute mangiando diversi tipi di cibo può aumentare ulteriormente non potevo spiegarlo meglio e quindi è così che va col cibo quindi non è un classico survival dovete mangiare solo per mangiare ma dovete mangiare per avere più vita il che è utile perché girare con 25 di vita o anche meno a parte la prima zona poi rischiate di essere one shot comunque ora mi procuro un po' di legna e vi faccio vedere un attimino come costruire una prima casa abbozzata in modo da avere un letto quindi un spawn point dove rinascere un posto dove cucinare la carne e dove soprattutto una volta chiusa la casa questa workbench funzionerà e noi la potremo usare e da lì potremo craftare tantissime altre cose nel frattempo vi faccio vedere anche lo stealth perché se premete ctrl vi abbassate c'è lo stealth e all'inizio per ammazzare i cervi dato che non avrete subitissimo l'arco e le frecce sarà molto importante avere lo stealth cioè provare a usare lo stealth anche se consuma stamina e ne ho pochissimi e quindi le cose non andranno molto bene perché i cervi sono velocissimi e senza l'arco è quasi impossibile prenderli tranne che non arrivate da dietro con lo stealth e ti ammazzate e i cervi vi servono perché droppano il il trofeo che vi serve per fare il primo boss e soprattutto comunque la pelle di cervo che è un'ottima armor all'inizio vi servirà per l'armor di cuoio qua il corvo ci dice che di notte fa più freddo e avete un malus avete un malus anche se siete bagnati per vedere esattamente cosa fanno i malus o i bonus quando le avete premete qua sul corvo e vedete gli effetti attivi e vedete che il freddo vi diminuisce del 25% la stamina regen e del 50% la vita regen quindi la notte è più pericoloso di notte ci sono molti più mostri in giro quindi ora cerchiamo di tirare su sta pseudo casetta rifugio per fare insomma un tetto un tetto sulla testa farò qualcosa di no di semplice di per semplice giusto per poter usare la workbench col tasto centrale quando avete il martello potete distruggere le cose e recuperare i materiali in questo caso io lo faccio per riposizionare la workbench qua sotto però come vedrete anche qua mi dice che la postazione è troppo esposta perché vuole i muri a fianco quindi mettiamo i muri a fianco forse basta così esatto come vedete adesso il nostro crafting è aumentato ci sono cose che abbiamo imparato prima perché abbiamo trovato del legno abbiamo trovato delle pelli quindi in teoria noi noi veniamo rotti di coglioni vedete di notte c'è molto più movimento possiamo fare per esempio la tunica di cenci con 5 ritagli di cuoio e possiamo fare l'arco grezzo che è molto importante è molto più facile uccidere i cervi con l'arco anche se il primo arco ha un drop rate diciamo così della freccia clamoroso però gli archi successivi sono molto migliori e poi possiamo avere gli scudi e possiamo anche aprile a dare di un livello tutti gli oggetti che già possiamo fare e possiamo fare la zappa che faremo perché la zappa è fondamentale per zappare direte voi sì per livellare il terreno che è molto importante quando voi costruite livellare il terreno vi facilita molto più le cose come vedete livellarlo non vi costa nulla vi costa solo stamina se invece volete alzare il livello del terreno dovete usare delle pietre ecco vedete livellando è molto più semplice soprattutto semplice vedere come ho fatto male il tutto mentre cerco risorse vi faccio vedere che in giro trovate anche casette chest con vari eventuali oggetti che magari ora non raccolgo però insomma esplorate perché c'è tanta roba in giro e un altro consiglio quando siete all'inizio del gioco andate vicino alle zone di acqua per trovare le selci con le selci come vedete potete sboccare tantissime cose nuove e molto importanti come la lancia e come l'ascia di selce e non di pietra che è molto più forte le selce vi servirà anche per fare degli upgrade futuri in questo gioco si può nuotare però occhio che consuma parecchia endurance come vedete quando l'acqua supera voi potete nuotare però il drain della endurance è parecchio alto quindi occhio perché quando finisce la stamina cominciate a perdere vita nuotando ora vi faccio vedere che con un letto ovviamente questa casa non ha alcun senso ma per motivi diciamo di dimostrativi ecco questo è l'accrocchio che ho fatto per motivi esemplificativi vedete adesso che il letto è sotto un tetto e anche con delle pareti intorno mi ha permesso di creare lo spawn point e se ora noi andiamo a dormire quando in realtà inizia la notte faremo passare la notte in un sol colpo e ci sveglieremo la mattina dopo quindi se non vogliamo giocare di notte perché insomma ci sono dei malus di notte comunque possiamo dormire e far passare il giorno è molto semplice creare la casa di legno all'inizio del gioco in questo gioco perché basta la legna semplice che è molto semplice da farmare finisco il video con un altro piccolo suggerimento in questa mappa abbiamo questi mark a fianco che noi possiamo utilizzare selezionandoli e poi facendo dopo click e così noi potremo man mano che troviamo le cose appunto renderci ricordarci esattamente di che cosa c'era se ci sono giacimenti dungeon posti speciali e possiamo anche scrivere quello che vogliamo e col tasto destro cancellarlo direi che per questo video è tutto diciamo che sono dei piccoli consigli per iniziare il gioco e vediamo se nel prossimo futuro mi verrà voglia anche di fare qualcos'altro di magari più avanzato per i punti più avanzati appunto del gioco magari dopo i primi boss e i craft magari più complessi le zone più complesse questa diciamo una guida proprio per beginners per i primi passi spero che sia stata utile noi ci vediamo per altri video qua sul canale mi raccomando rimanete sempre sintonizzati e lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti qua si parla di gaming e a tutto tondo noi ci vediamo alla prossima e una buona giornata a tutti ragazzi ciao ciao grazie a tutti